ben trovati proseguiamo il nostro viaggio all'interno della comunicazione conflittuale come possiamo impegnarci allenarci per modificare il nostro stile relazionale così da non aumentare i conflitti così da non incrementare i fattori di rischio che possono creare delle situazioni talvolta anche di violenza ricordiamo e parlo soprattutto a noi adulti che il nostro stile relazionale il nostro modo di comunicare è sotto la lente di ingrandimento in continua osservazione da parte dei più piccoli se abbiamo figli in casa dobbiamo sempre tener presente che loro hanno orecchie e occhi anche dove noi non immaginiamo e che imparano molto di più dall'esempio quindi da ciò che le loro orecchie sentono o i loro occhi vedono piuttosto che dalle elezioni che diciamo così dagli obblighi o dai doveri che noi cerchiamo di insegnare con le parole ecco perché il principio educativo più importante è quello della coerenza quello che fa corrispondere a ciò che noi diciamo loro con il nostro comportamento quindi nel modo in cui noi ci comportiamo quindi riflettere sul nostro stile relazionale e vedremo in questi video in questo e nei prossimi del tanti esempi che ci possono far riflettere su come noi comunichiamo ci permetteranno di migliorare la nostra qualità di vita la nostra qualità delle relazioni ma anche aiutare più piccoli a imparare uno stile comunicativo idoneo. Volevo leggervi queste parole di Marshall Rosenberg la violenza è l'espressione tragica di bisogni non soddisfatti è la manifestazione dell'impotenza o della disperazione di una persona talmente priva di risorse da pensare che le proprie parole non siano sufficienti per farsi capire allora attacca grida aggredisce. Ho ripescato nella mia libreria un vecchio quaderno di esercizi per comunicare senza conflitti con la comunicazione non verbale di Anva Stappen e ho preso spunto da questo piccolo quadernetto per condividere con voi appunto uno stile relazionale migliore. Perché? Perché la comunicazione può essere la comunicazione violenta ha degli effetti negativi sulla nostra vita ma non solo. Verso noi stessi in che modo la comunicazione violenta si esprime? Per esempio abbiamo parlato nei video precedenti di ascolto attivo quindi non prendersi cura di noi quindi non operare un autentico ascolto attivo quindi mettere da parte i nostri bisogni le nostre emozioni è una violenza contro noi stessi. Giudicarsi quanti di noi rischiano sempre di svalutare ciò che dicono ciò che pensiamo o quante volte rischiamo di sentirci in colpa dopo che abbiamo parlato o proprio perché non abbiamo parlato perché anche non riuscire a condividere è una violenza contro noi stessi. Cosa si condivide? Si condividono i dolori quindi non avere questa capacità di condivisione lascia i dolori intrappolati dentro di noi ma anche le gioie quindi la difficoltà della condivisione di gioie è un male è un danno che noi facciamo a noi stessi così come lo è l'essere troppo esigenti l'essere pretendere che poi scaturisce anche in ansia prestazionale molto alta no? Il pretendere da noi performance sempre elevate. Rimproverarsi. Rimproverarsi è un'altra modalità di nuocerci i pensieri, rimproverarci a parole, rimproverarci ricordando eventi, rimarcando continuamente quelli che noi consideriamo essere gravi errori. Ma un'altra forma di violenza internazionale è verso gli altri. Giudicare, l'abbiamo visto, come sia importante non farlo. Criticare, criticare cosa significa? Fare paragoni, fare dei pronostici per cui non ce la farai mai a diplomarti, se stai tutto il giorno lì sdraiato sul letto verrai bocciato. Oppure interpretare, non guardarmi in quel modo, che cosa mi vuoi dire? Che sei arrabbiato? Non guardarmi in quel modo è un'interpretazione. Generalizzare è un altro errore della comunicazione. Quindi non so, per esempio, sei sempre il solito, sei sempre attaccato al computer. Questa è una generalizzazione che mette in crisi la comunicazione. Avere dei pregiudizi. Noi sappiamo che il nostro cervello ha una memoria, una memoria autobiografica e la costruzione di pregiudizi ci aiuta, ci aiuta nell'interpretare la realtà. Ma il pregiudizio non può essere un freno, non può inibirci dal relazionarci in maniera autentica con chi noi abbiamo di fronte. Pensare per dicotomie è limitante, quindi pensare per è bene o male, allora o è così o ecco là, gli out-out non funzionano. Negare le proprie responsabilità, quindi quante volte e quanti magari tra di noi scaricano sugli altri la responsabilità di ciò che non funziona nelle nostre vite. Sono stato licenziato perché il capo è un deficiente, sono sempre triste perché tu non mi consideri, voi mi trattate male perché non mi amate, è colpa vostra. Questo del negare ciò che noi, la nostra capacità di essere agenti di cambiamento nelle nostre vite è molto pericoloso. Ma anche esigere, obbligare, minacciare per ottenere ciò che a noi sembra giusto è una forma di violenza verso gli altri. Non ascoltare l'altro, avere un atteggiamento sempre reattivo, sempre, non so se voi avete in mente, ma ci sono delle persone che sono sempre molto, che sono sempre subito reattive, sempre nervose. Questa è una forma di violenza verso gli altri perché chi ci circonda vive in uno stato di minaccia, no? Come se da un momento all'altro questa persona possa esplodere, possa arrabbiarsi. Negare la propria capacità di scegliere è una forma di violenza verso gli altri perché, imponendoti il mio punto di vista, limito la tua libertà, la tua conoscenza dei punti di forza e dei limiti. Invece, nell'incontro autentico con chi è diverso da me, io posso scoprire delle parti che altrimenti, se rimanesti nella mia zona di confort, mi rimarrebbero precluse dallo stato di consapevolezza. Vediamo con quanto sia importante essere consapevoli del nostro livello di violenza relazionale. Provate a recuperare ora nella vostra memoria il litigio più forte, quello più potente che avete vissuto in quest'ultimo periodo, diciamo dall'emergenza, da quando sono state limitate le nostre libertà. Avete avuto dei litigi? Pensate a quello più grave. Provate a disegnarlo, provate a descriverlo. Ora provate a recuperare invece il più bel gesto di pace, di armonia che avete compiuto in questo periodo. Mentre scrivete, notate le emozioni che provate. Annotatevi di fianco nel momento presente, il momento in cui voi pensate o scrivete, recuperate quel ricordo, che tipo di emozioni state provando. È utile anche chiedersi chi sono i bersagli dei nostri attacchi di collera, verso chi indirizziamo con maggior frequenza i nostri attacchi di collera. Ma quali sono i segnali premonitori? C'è qualcosa dentro di noi a livello corporeo? Sentiamo chiudere le viscere? Sentiamo stringere lo stomaco? Oppure esistono altri segnali che ci dicono che stiamo raggiungendo quel livello di collera? Quali sono i fattori che fanno aumentare la nostra tendenza ad una comunicazione aggressiva? Quali sono questi fattori? Sono dei fattori interni? Sono dei nostri pensieri? Sono delle esperienze traumatiche che abbiamo vissuto? O pensiamo esclusivamente che siano delle cause esterne a rendere la nostra comunicazione aggressiva? Quindi se mi parli in tono aggressivo io ti aggredisco, se non mi ascoltate io mi arrabbio. Nel nostro ambiente quali sono le condizioni o le persone che ci aiutano invece a restare tranquilli, a ritrovare la calma? Quali sono le strategie che noi abbiamo imparato ad utilizzare per mantenere, per calmare, per spegnere il fuoco della collera? Nel corso dei video successivi parleremo delle capacità su cui possiamo lavorare per diminuire di frequenza e ridurre l'intensità della violenza relazionale. Quindi potremo lavorare sull'osservazione, vedremo che cosa intendiamo per l'osservazione, sui bisogni, importantissimo, sulla capacità di esprimere le nostre emozioni e sulla necessità di imparare a porre le domande, a esprimere le nostre richieste in maniera corretta. Può fare davvero la differenza nei nostri scambi relazionali. Vi aspetto quindi nei prossimi video, vi saluto e a presto.